Dopo il via libera dell'AIFA arriva anche la circolare del Ministero della Salute che prevede l'estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-covid. Dunque anche l'Italia è pronta a partire con la quarta dose del vaccino per tutti coloro che hanno più di 60 anni per aumentare la copertura anticorpale nella popolazione più a rischio e contrastare l'ondata di contagi registrata nelle ultime settimane. Intanto alla luce delle ultime disposizioni ministeriali gli hub vaccinali della regione si preparano a riprogrammare linee e giorni di somministrazione anche in funzione delle crescenti richieste di richiami registrate negli ultimi giorni. A Pescara e provincia l'ASL raddoppia i numeri dell'ultima settimana come spiega il dottor Rossano Di Luzio responsabile della campagna vaccinale dell'ASL di Pescara. La scorsa settimana abbiamo registrato un aumento delle vaccinazioni e per questo motivo ci siamo adeguati aumentando di una giornata i giorni di vaccinazione. Siamo passati da martedì a venerdì a martedì, mercoledì e venerdì e invece di tre linee avremo quattro linee attive. Attualmente abbiamo tre sedi vaccinali. La prima è l'Ax Lidl in via Colle Renazzo 11 che come ho detto è aperto martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Poi a Penne è incontrata Campetto il 14 e il 28 luglio e successivamente tutti i mercoledì per i ragazzi all'ufficio vaccinazioni qui nella via Renato Paolini. Le modalità di vaccinazione quali sono? Rispettando quando proposto dalla regione ci si può presentare nei centri vaccinali e vaccinarsi. Comunque abbiamo anche della possibilità di prenotare presso l'Ax Lidl di Pescara. Quando si può fare questa quarta dose? Allora la quarta dose va fatta dopo aver fatto le prime tre. Se dopo la terza dose c'è stata una positività al Covid bisogna aspettare almeno 120 giorni dalla positività per poter fare la quarta dose e valutare quindi se questi 120 giorni arrivano in prossimità del mese di settembre valutare casomai con il nuovo vaccino. Quali sono i vaccini attualmente in uso? Attualmente stiamo vaccinando quasi esclusivamente col Pfizer. Molti si dicono scettici attualmente perché stanno aspettando i cosiddetti vaccini aggiornati sulle nuove varianti. È vero a settembre o a ottobre avremo un nuovo vaccino che dovrebbe coprire anche le varianti Omicron ma ricordo che il virus si sta espandendo per cui c'è sempre il detto meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Quindi consiglio a tutti quanti specialmente ai soggetti fragili di vaccinarsi e mettersi in protezione col vaccino attualmente e poi aspettare eventualmente. Vorrei dire che invece di farlo a settembre o ottobre faranno un po' più in là l'altra dose di vaccino. Ci sono sempre i dietrologisti, gli scettici, i Novax che dicono adesso magari si sta incrementando questa campagna vaccinale perché vogliono magari finire le scorte di vaccini che hanno e poi passare a quelli nuovi. No, assolutamente no. Il vaccino ha la sua capacità di ridurre la malattia, quindi di farla diventare meno forte, meno asintomatica e per cui è importantissimo altrimenti rinizieremo con l'occupazione dei posti letto e questo non ce lo possiamo permettere.